Cari amici, cari amici di Meteo Giuliacci, un weekend che inizierà nel segno delle perturbazioni, piogge che dal nord ovest tenderanno velocemente a concentrarsi verso il nord est, il Triveneto, l'Emilia Romagna, quindi le regioni centrali, soprattutto quelle che si affacciano verso il Tirreno, ma anche nelle zone interne, si inverso, vedete la Campania, la Calabria, Tirrenica, qualche scroscio di pioggia, ma basso il rischio di fenomeni sulle due isole maggiori, sul versante adriatico, soprattutto centro-meridionale, andrà meglio con aperture del cielo prevalenti, ma le nuvole non mancheranno. Questo è lo scenario previsto per la giornata di venerdì, insomma, ombrella a portata di mano, soprattutto al centro-nordo, perché non mancheranno delle piogge. Arrivederci.